ciao a tutti oggi è arrivato degusta box e quali e vi faccio vedere il sito allora il sito è degusta box.com come funziona ordina la ricevi la guida la voglio 15 ore 99 hanno aumentato bene di 49 centesimi infatti adesso se avete lo sconto c'è quello di 6 euro infatti adesso hanno anche cambiato il giorno che mi prendono i soldi nella post pay il primo del mese comunque quindi c'è la 99 iva inclusa con anche la spedizione è una box che arriva dal veneto di prodotti sia nuovi che già visti sul mercato di alimentari allora il sito degusta box.com vediamo la box arriva sempre con la velina sopra che io spacco sempre allora vediamo un po qui c'è la pubblicità di cibo vero veri spezza fame sono barrette quindi dentro ci sono queste barrette poi c'è una vostra pubblicità 15 per cento di sconto sulla pasta di graniano igp di martino se avete questo utilizzano il codice degusta box sul primo acquisto c'è il 15 per cento di sconto poi c'è gli auguri di devo sta box e poi c'è finalmente la lista con i prodotti che vi faccio vedere dopo questa è la box di dicembre allora incominciamo ecco le lenticchie io le ho comprate per niente potevo aspettare che a me non è che piacciono molto mi piacciono più pisari e le lenticchie allora sono cotte il vapore della marca pedon 250 grammi e si possono fare sia al microonde che in padella ok poi avete col prezzo poi vi faccio vedere il cartoncino queste costano 1 euro 99 poi c'è una lattina birra che non bevo che non mi piace proprio bavaria dell'olanda e senza alcol quindi analcolica ma tanto mi piace lo stesso sono 33 centilitri e costa 89 centesimi poi c'è ecco la pasta penne mezzo penne mezzo chilo pastificio di martino e costa 1 euro e 20 poi c'è hippie apple ecco non lo bevo ma questa marca io l'ho vista forse da qualche parte all'idol ma non sono sicura calcio più vitamine 330 millilitri quindi succo di mela no ecco costa 99 centesimi c'erano anche alla ciliegia frutti rossi delle fragola mettono la fragola noi ma poi maionese no yogonese 250 millilitri della deve lei il gu se mettessi a fuoco su tolgo un attimo la luce vediamo ok non metta fuoco il gusto fresco dello yogurt e della maionese hanno proprio solo yogurt 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 sì no con l'uovo cioè fatta quello yogurt 250 millilitri e costa un euro 1 euro 79 poi cominciamo col vetro mutti passata siciliana la vivace dalla piena di catania ecco io un viaggio che voglio fare andare in sicilia non sono mai stata 400 grammi e costa un euro e 29 c'era la sicilia la puglia e l'emilia la pugliesi vigorosa e la emiliana e armoniosa poi non ci posso credere l'ho comprato ieri perché l'ho visto che era nuovo lo volevo provare della ritter sport coconut macaroon 100 grammi potevo risparmiare quanto costa 1 euro 29 potevo risparmiarmi c'era sia quello che caramellized almonds e spice biscuit poi l'ho comprata ieri apposta vabbè goladori queste come le prendevo quando andavo alle medie prima di entrare a scuola andavo in panetteria e me le compravo alla coca cola e alla frutta questi sono 16 pezzi e costano 10 centesimi all'uno me lo ricordo ancora mi prendevo le golador e un pezzo di pizza bianca vabbè bei te 16 pezzi cola limone no sono antono misti allora c'è cola limone ciliegia ciliegia ah sono sei con limone sei ciliegia due frutti assortiti due doppia caramella al gusto di frutta e due coca cola e questo costa 1 euro e 99 poi ah ma c'è anche l'altro ritter sport caramelized almonds 100 grammi sempre 1 euro 29 altro vetro altro vetro ah c'è l'altra mutti l'emiliana l'armoniosa che 400 grammi e costa sempre 1 euro 29 poi c'è pane morato bianco con lievito madre e olio di oliva spuntinelle spuntinelle a me piace tantissimo questo pane quello bianco molle molle ed è 400 grammi e costa 1 euro e 70 poi c'è un facchettino di lace classiche 30 grammi e costa ah il regalo poi c'è un panettoncino ma non è panettone giusto senza glutine stella di natale soffice pan di spagna con golosa crema chantilly no giuliani ma non è la marca delle medicine giuliani io l'ho già vista questa marca ma no con la crema chantilly no 115 grammi e costa anche carino la confezione costa 3 euro e 50 bene questo è quello che costa di più fino adesso poi boccancini natilde vincenzi snack di fragrante pasta sfoglia farcita con albicocche e pregetto a vaniglia bourbon 90 grammi e costa 1 euro 65 per finire ecco le barrette 3 ore senza fame all'arancia con questo terrore senza fame con questo terrore senza fame in forma con dolcezza e ce la farò su non c'è il grammo ma scusate 30 grammi e costa 2 euro 95 questo coso vabbè vediamo se c'è tutto vi faccio vedere quindi matilde vincenzi 1 euro 65 le passate la yogurt iogonese la pasta che poi c'erano tre differenti tipi poi il pano il panettoncino lì la barretta goleador la birra il pane ritter anche lì c'erano tre tipi vi ho già detto il regalo delle patatine le lenticchie e succo di mela quindi quello che costa di più è il panettoncino quello che costa di meno è la birra ok per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao